Ciao a tutti appassionati di anime manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube, su Twitch, su Instagram e anche nel mio gruppo Telegram per restare sempre aggiornati. Tutti i link li trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a fare la recensione di Alicino, edito da Planet Manga, prezzo 7€, è da 3 volumi, però è interrotto, anche se nel 2001 cosa è interrotto, perché la sua attrice ha spaccato il dito, è uscito che mancava un solo volume alla sua conclusione. Però probabilmente dopo 20 anni non ci speriamo più che si finisca. È un Gio 6, quindi visto che voglio anche recuperare qualche Gio 6, anzi consigliatemi qui sotto qualche Gio 6, che sia valido, possibilmente già concluso in tutto. Perché comunque voglio andare anche su quel genere, su quel target, per comunque farmi una cultura generale di manga. Come vedete, lo stile di disegno, soprattutto le impostazioni delle tavole, è molto molto particolare, non è la classica impostazione che hanno le tavole. È l'unico manga che ha fatto questa autrice, che è Koyuku Shurei. Shurei? Koyuku Shurei. E quindi unisce tematiche fantasy, dark e anche sentimentali. Parla di questo mondo, questi anichino, che sono delle specie di demoni, tutti diversi tra loro, che hanno diversi aspetti. Quello che hanno in comune, che sono bellissimi, per questo gli uomini sono attratti proprio da questi esseri. Sono gentili e ingannevoli, timidi ma anche selvaggi. E quindi vediamo questo protagonista, Tsurigi, che è un semplice umano, o meglio, si scopre che ha una particolarità molto ambita e ricercata dagli alichino. E quindi tutta la storia è incentrata su di lui e sui suoi amici, diciamo, Enju. Poi ci sono un'altra alichino che però non è contro di lui, ma che è sua amica, in qualche modo, che vuole comunque difenderlo, Miyobi. E quindi vediamo comunque tutto incentrato intorno a questo Tsurigi, questa battaglia tra lui, che ha il potere di uccidere l'anima, la vera anima degli alichino, e non solo il loro corpo, e gli alichino che sono attratti da lui, dal suo potere, per farlo proprio. Gli alichino hanno questa particolarità che possono esaudire qualsiasi desiderio degli esseri umani, solo che in cambio richiedono sempre qualcosa e di solito è l'anima. E quindi è una cosa che succede spesso nella mitologia, in particolar modo europea, che appunto fai un patto col diavolo e lui in cambio ti chiede la sua anima. Tra l'altro alichino sono, secondo la mitologia, dei spiriti, demoni, folletti, eccetera, eccetera, di cui anche Dante ne parla nel suo inferno, che invogliano l'uomo a esprimere un desiderio e loro gli sottraggono l'anima e quindi sono molto ingannevoli, ingannano spesso l'uomo. E tra l'altro alichino poi dà l'etimologia del termine di Arlecchino, visto che sono di Bergamo. Sembrava giusto prendere questo manga anche perché Arlecchino è nato qua, da bergamaschi, un'unica nativi di qua che poi si sono spostati in Venezia durante il periodo in cui Venezia comandava, aveva il suo regno di Venezia fino a Bergamo e quindi se hanno trasferito a Bergamo per ricordare le loro origini o tradizioni, hanno inventato questa maschera di Arlecchino. No, non parliamo di nient'altro. Però, per appunto, si intreccia intorno a questa storia, a questo Zurighi, che ha il potere del vincolo, però appunto, che ha un'anima, l'anima del vincolo, che è molto ricercata di Arlecchino perché è un'anima pura, più bella di qualsiasi altra e quindi è spesso portatrice di sventura per chi gli sta intorno perché gli Arlecchino, essendo attratti della sua anima pura, vengono sempre a cercarlo e lui ha il potere, l'unico che ha il potere di ammazzare, per l'appunto, in via definitiva, questo Arlecchino perché gli Arlecchino hanno un corpo incorruttibile, quindi non sentono uno scorre e l'invecchiamento del tempo, possono assumere le sembianze di chi vogliono e sono praticamente immortali, a parte, tranne proprio da questo potere del vincolo che gli distrugge l'anima. Il corpo possono perdere, però la loro anima resiste e si insidiano in un altro corpo, generano un altro corpo, non è dato sapere come, ne è specificato quali dei due, però vediamo comunque relazioni umane, relazioni tra uomini e Arlecchino in questo manga, come si comportano con Tsurigi, alcuni sono contro, altri sono amici, diciamo, quindi Arlecchino visto non solo come un'entità demoniaca, ma ognuno con i suoi pensieri, le sue idee e non è detto che voglia a tutti i costi ammazzare gli uomini per soltare l'anima, ma alcuni si innamorano spesso degli umani a loro volta, nonostante siano belli, bellissimi, questo è Arlecchino, e quindi gli Arlecchino sono un po' tratti come disegnati come umani, anche la loro psicologia, la loro psiche, anche se inevitabilmente sono diversi, capisce bene, che ragionano in maniera diversa. Lo stile di disegno ricorda un po' classico quello degli shoujo, un po' shoujo un po' più maturo, e quindi, essendo comunque un josei quindi per donne adulte a regola, il target, e quindi comunque ha tematiche un po' profonde rispetto a un classico shoujo sentimentale, qui c'è anche la parte sentimentale, ma non la fa da padrona. Carino, l'ho trovato abbastanza carino, purtroppo, beh, penso che non finirà mai però, mancando un suo volume a regola, si spera che lo completi, quindi 6-7 capitoli, dopo 20 anni non ci mette la mano sul fuoco, voi lo conoscevate questo manga? L'avete mai letto se si iscrivete qui sotto nei commenti, oppure se vi è incuriosito l'opera, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un bel like, iscrivetevi anche su Instagram, noi ci vediamo al prossimo video.